benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri il lungo inverno di hugo singer di elisa ruotolo chi le ha detto che si è troppo grandi per leggere le favole e allora io non voglio crescere mai questo è il libro giusto per piccoli e anche per grandi il piccolo hugo singer nacque durante l'estate di un anno che nessuno si preoccupò di segnare eppure la sua nascita fu un evento venne fuori dall'unico uovo duro e grigio che ester era riuscita a deporre dopo la sua lunga vita con adam finché rimase nel guscio ugo sognò di poter abitare in una foresta intricata con pennuti in volo nel lontano spicchio di cielo in un campo di girasoli profumati di vento e di piovana oppure su una spiaggia tra i gusci di conchiglie e le telline troppo curiose per non venire a dargli un saluto invece dopo la fatica di incrinare squarciare la scorza che l'aveva tenuto per circa tre mesi si ritrova in uno spazio umido carico di ombre e vecchiume in deposito di quei sogni fantasiosi aveva colpa mamma ester da mattina a sera un giorno dopo l'altro ugo aveva preso i racconti degli anni venuti prima della cantina perché c'era stato un tempo in cui ester e adam avevano visto il mondo il sole alto di molte stati e avevano scorazzato senza freno su terre che parevano infinite a dispetto della rete metallica che impediva persino ai polli di andarsene erano stati anni felici davvero grata elisa ruotolo per il lungo inverno di ugo singer elisa ruotolo è scrittrice e poetessa ha pubblicato nel 2010 per nottetempo la sua prima raccolta di racconti ho rubato la pioggia il suo romanzo di esordio invece arriva nel 2014 ovunque proteggici pubblicato sempre per nottetempo e poi ripubblicato nel 2021 per feltrinelli ha dedicato diverse raccolte ad antonia pozzi ha pubblicato il suo secondo romanzo quel luogo a me proibito nel 2021 sempre per feltrinelli e tra l'altro è stato tradotto anche in francia e selezionato al premio rapallo e al premio bergamo ed elisa ruotolo è stata anche ospite della terza edizione della rassegna pagine d'autore ha pubblicato una raccolta poetica corpo di pane per nottetempo invece le sue ultime pubblicazioni sono luce per tetra e l'ultima raccolta poetica alveare per crocetti editore questa è la storia di una tartaruga della tartaruga ugo che è nata dall'amore meraviglioso di adam e ester purtroppo ugo non conoscerà mai il suo papà e ester si ritrova da sola e darà la luce in uno scantinato il piccolo ugo ugo nascerà in una macchina da cucire per questo il nome ugo singe ma in questo scantinato ugo e ester non sono da soli perché è abitato da una famiglia di topi infatti ugo conoscerà il topo bambino sam e nascerà una amicizia meravigliosa unica profonda e sincera una dimensione temporale accompagna tutto questo racconto infatti sappiamo che non siamo eterni non possiamo vivere a lungo però possiamo illuderci e possiamo sognare e vivere bene il nostro presente questo è l'insegnamento più grande di del lungo inverno di ugo singer sam e ugo infatti vivono tempi diversi sam lo sa noi lo sappiamo ma ugo non lo sa sarà proprio sam a realizzare il desiderio più grande del suo amico quello di di conoscere e di vedere il mondo di conoscere l'inverno nonostante il letargo nonostante le ansia e le paure di ester nonostante la neve nonostante tutto che cosa si può desiderare di più per essere felici nella nella vita e allora se mi riuscirà ad intrappolare questo questo tempo per ugo questo non ve lo dico perché dovete leggere dovete leggere il libro e allora erisa ruotolo ci presenta un mondo senza finzioni un mondo bellissimo un mondo che è diverso da quello della della favola tradizionale e ci fa assaporare meglio il nostro vivere che può essere breve può essere come quello di ugo oppure può essere quindi lento come quello di ugo oppure può essere veloce o velocissimo come quello di sem poi questo questa favola è accompagnata dalle illustrazioni di chiara palillo che sono sono bellissime io vi mostro quella che è la mia preferita ma non vi dico il perché è questa del papavero ed è molto delicata c'è una tecnica molto nuova nelle illustrazioni va mi mostro vi mostro anche quella del che piace tanto ad elisa ruotolo all'autrice e neanche di questa tavola vi dico il perché perché lo dovete dovete leggere questa questa favola e allora una favola adatta per per tutti e non mi resta che augurarvi buona lettura con il lungo inverno di ugo singer se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it oppure scrivetemi alla mia mail o ancora mi trovate sui social instagram e facebook buona lettura con elisa ruotolo www.paginedautore.it www.paginedautore.it Grazie a tutti.